Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati per questa edizione del TG Giorno che apriamo dunque con la cronaca. In questi giorni, lo avrete sentito, c'è un appello a livello globale dove si dice che il mondo, la terra, sta bruciando davvero migliaia e migliaia di incendi su tutto il territorio mondiale, ma qualche incendio negli ultimi giorni si è verificato anche nella nostra zona, nella nostra provincia. Quello di ieri ha creato anche un po' di preoccupazione a Sesto di Moriano perché era piuttosto vicino anche ad alcune abitazioni. Il servizio. Fiamme nei boschi e negli oliveti a Sesto di Moriano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca, dato che il rogo si è sviluppato in prossimità di alcune abitazioni e la sala operativa regionale ha inviato rapidamente due elicotteri da Lucca e Pistoia. La zona interessata dall'incendio sarebbe di circa 8.000 metri quadrati, secondo una prima stima. Il vento, che ispirava in senso contrario alla direzione di spostamento delle fiamme, ha fortunatamente contribuito a rallentare l'avanzata del fronte di fuoco, favorendo il contenimento dell'area interessata. Sotto il coordinamento del direttore delle operazioni, Michele Parenti, dell'antincendio Toscana, sono entrate in azione quattro squadre di operai forestali e del volontariato. Per consentire le operazioni è stata chiesta la disattivazione della linea elettrica ad alta tensione che attraversa la zona. Sul posto anche i carabinieri forestali per verificare le cause del rogo. La regione ricorda che dal 1 luglio è in vigore il divieto assoluto di accensione a bruciamenti e raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell'uso all'aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. E quindi inutile aggiungere a quello che ha detto il collega Gidio Conca, bisogna prestare la massima attenzione, sempre che poi come sappiamo purtroppo diversi incendi hanno una natura e un'origine dolosa e questo è ancora più preoccupante e se mi posso permettere di dire sconcertante. Andiamo sul nostro sito per alcune notizie dell'ultima ora. L'apertura riguarda la procura che apre un fascicolo sulla morte di Katia Lamberti. Andiamo a leggere all'interno. La procura della Repubblica di Lucca si sta occupando del caso di Katia Lamberti. La trentenne titolare con il compagno della pizzeria Regina di Cuore a Torre del Lago morta improvvisamente, ce ne siamo occupati in modo ampio il giorno di Ferragosto, la ragazza che non si era ancora vaccinata ed era in quarantena perché contagiata dal Covid. E naturalmente all'interno poi potete trovare tutte le notizie inerenti questa vicenda. Per quanto riguarda invece i dati del Covid, vediamo anche questi. Sono 537 più 103 rispetto a ieri, nuovi casi registrati in Toscana, 19.010 test effettuati con 9.410 tamponi molecolari e 9.600 test rapidi. Scende invece il tasso dei nuovi positivi al 3,6%. Possiamo dirvi che in provincia di Lucca, poi naturalmente nelle prossime edizioni vi daremo il quadro completo, i nuovi positivi sono 57, quindi meno 5 rispetto a ieri. Però aumentano ancora i ricoverati che hanno sfondato come sapete la soglia delle 400 unità. Parliamo di cinghiali, ne parliamo ormai da parecchi, da diversi anni, perché la loro presenza non solo nei boschi ma è sempre più vicina all'uomo, sempre più vicina alle abitazioni. Allora si sta cercando di fare qualcosa. Vediamo il servizio. Sempre più cinghiali vicino ai centri abitati, tanto che la provincia di Lucca lancia un appello a coloro che abitano vicino alle zone boschive. Non lasciate scarti alimentari incustoditi, perché attireranno inevitabilmente ancora di più gli ungulati vicino alle abitazioni e alle strade. A sottolineare il problema è il consigliere delegato alla Polizia Provinciale, nonché sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti. Uno degli effetti, forse possiamo dire anche dei danni collaterali relativi alla pandemia, è stata ovviamente la proliferazione della popolazione degli ungulati, in particolar modo dai cinghiali che si sono avvicinati ai centri abitati, dove è difficile, per non dire impossibile, anche perseguire la politica degli abbattimenti, perché appunto non è possibile andare a sparare vicino alle abitazioni. Un modo per cercare di contenere questa proliferazione e soprattutto per cercare di tenerli più lontani possibile dai centri abitati è quella, per esempio, di non abbandonare, incustoditi e fuori da recinti, gli scarti alimentari, perché i cinghiali, come tutti gli ungulati, vengono attirati ovviamente dal cibo, si muovono alla ricerca del cibo e quindi tenere anche, che ne so, i composter, piuttosto che i mucchi di cibo abbandonato, di scarti alimentari, vicino magari alle zone boscate, li attira, li fa avvicinare, li fa venire vicino all'abitazione e questo crea ovviamente un problema anche nella politica degli abbattimenti. Tenere lontano i cinghiali serve anche a prevenire la diffusione della peste suina africana, già arrivata nell'est Europa e in Germania. Si tratta di una malattia fortunatamente non trasmissibile agli esseri umani, ma che può risultare letale per gli animali e può mettere in ginocchio il settore dell'allevamento dei suini. Su questo allarme si sta muovendo anche la regione, che sta approntando uno specifico piano di intervento. Voltiamo pagina, passiamo alla politica, Massarosa manca ancora un mese e mezzo, poco meno alle elezioni amministrative, però si respira già il clima delle elezioni. Luigi Casentini. A confermare l'investitura ufficiale a candidato sindaco di Massarosa del primo cittadino uscente Alberto Coluccini, a gazebo elettorale allestito in piazza del mercato, è arrivato il deputato del partito di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli. Una scelta definita di coerenza da parte di Fratelli d'Italia, secondo il parlamentare. Fratelli d'Italia è sempre coerente. Appoggiavamo Coluccini a livello locale, portavamo avanti il rinnovamento che stava finalmente arrivando a Massarosa, ci hanno interrotto, Coluccini si presenta e noi continuiamo con coerenza a sostenere Coluccini. A livello nazionale abbiamo detto mai col PD, mai col 5 Stelle, Fratelli d'Italia a livello nazionale non è né col PD né col 5 Stelle. Invitiamo gli alleati, anche loro, a rimanere insieme a noi nel centro-destra per portare avanti il buon lavoro che stavamo facendo a Massarosa. L'ex sindaco parla di un percorso interrotto bruscamente che meritava di essere ripreso. I risultati stavano arrivando, siamo caduti tutti insieme. Ad oggi non sono uscite proposte differenti da quelle che noi stavamo portando avanti. Quindi, come dissi il giorno della caduta della mia amministrazione, noi ci rialziamo e continuiamo a correre. Nessuno ha indicato altre strade rispetto a quella che noi abbiamo percorso perché era l'unica via che andava percorsa. Se qualcun altro vuole prendere un'altra strada, siamo rammaricati e ce ne dobbiamo fare una ragione. È quindi evidente che, a meno di passi indietro da parte di Forza Italia e Lega, che hanno indicato come candidato alla tornata elettorale la figura di Carlo Bigongiari, il centro-destra si presenterà diviso al primo turno delle elezioni del prossimo 3 e 4 ottobre, a differenza del centro-sinistra, che ha converso in maniera quasi compatta sulla candidata Barsotti, ad eccezione al momento di rifondazione comunista. Blackout con relativi sbalzi di tensione, danni ai bagni in Darsena. Continui cali di tensione dell'energia elettrica culminati nel fine settimana di Ferragosto, con la caduta di due fasi che ha provocato ingenti danni ad almeno due stabilimenti balneari, a cui sono bruciati i motori delle pompe e delle piscine. È questa la situazione dei bagni della Darsena, che si trovano nuovamente a fronteggiare le problematiche relative ad una rete elettrica obsoleta che mal sopporta gli aumenti di carico estivi. Sì, esatto, siamo stati presi da questo blocco della corrente, c'è stata una colonnina che è andata quasi a fuoco, e quindi è arrivata una fase, due fasi, stacchi continui di corrente, ci ha rovinato e bruciato diversi motori della piscina, centraline elettroniche, insomma è tutta l'estate che abbiamo difficoltà nella gestione della corrente elettrica. Ultimamente, tutti i giorni subiamo dei cali di tensione, e se sono cali di tensione bassa non succede nulla. Se c'è magari la caduta di due linee, di due fasi, mi ha spiegato l'elettricista, possiamo avere danni grossi, come è successo ad altre strutture, perché i motori girano alla rovescia e si spacca tutto. La questione è stata sottoposta a Denle Distribuzione, la quale ha risposto che, per poter aumentare la tensione erogata, dovrebbe realizzare una cabina di derivazione ex novo. Ma per questa nuova struttura sono necessarie autorizzazioni non di competenza dei gestori degli stabilimenti. Ora, per noi è impossibile questa cosa qua, perché noi siamo sia sul demanio comunale che marittimo. Dovrebbe essere magari qualcun altro che gli può assegnare, magari insieme al parco, uno spazio tale per poter costruire questa benedetta cabina di derivazione, perché qua non arriva corrente, non possiamo chiedere aumenti e il fabbisogno aumenta sempre di più. Ed ora andiamo ad Isola Santa, siamo nel cuore della Garfagnana per parlarvi di un parcheggio con servizio navetta a favorire l'afflusso turistico. Il piccolo borgo di Isola Santa, con il suo splendido lago incastonato tra le apuane, è sicuramente una delle mete predilette per le gite fuori porta del fine settimana, ma anche per i turisti che soggiornano in Garfagnana. La strada provinciale 13, che costeggia il piccolo centro abitato, non è però molto ampia e soprattutto mancano parcheggi che consentono ai visitatori numerosi di potersi fermare comodamente senza creare disagi e pericoli per il traffico. Questo rappresentava un problema, che è stato però risolto nelle settimane scorse dal comune di Careggine, come ci spiega la prima cittadina, Lucia Rossi. L'amministrazione comunale ha pensato a questa soluzione con questo immenso parcheggio che fa parte dell'Italiana Acque, l'azienda che attualmente è di proprietà della cura terra fallimentare e ha dato la disponibilità appunto per il suo utilizzo. Quindi qua potranno parcheggiare vari turisti che visitano il borgo, c'è un servizio navetta, ha un euro, diciamo una cifra simbolica. Insomma, adesso si può lasciare la macchina in uno spazio sicuro ed ampio e raggiungere con un solo euro per la corsa comodamente ed in pochissimo tempo il borgo di Isola Santa. Per una visita che di sicuro, vista la bellezza di questo posto, sarà memorabile, oltre che senza pensieri. Stata la Bohème a chiudere la 67esima edizione del Festival Puccini. L'edizione numero 67 del Festival Pucciniano di Torre del Lago, che ha calato il sipario sabato sera con l'ultima rappresentazione di una applauditissima Bohème, passerà alla storia come il Festival dei Sold Out. Il tema del bacio che racconta l'amore è stato il fil rouge del Festival 2021, che sulle rive dei Massaciuccoli, dal 23 luglio a sabato 22 agosto, ha portato in scena l'amore con Tosca, Turandot e Bohème. Un cartellone ricco di eventi con dieci rappresentazioni operistiche, concerti, ricorrenze importanti come i cento anni dalla scomparsa di Enrico Caruso, eventi speciali. Questo è quanto ha brillantemente ideato il direttore artistico Giorgio Battistelli. Ci stiamo radicando sempre di più sul territorio come una forza creativa, come una forza propositiva, artistica, di crescita dell'intero territorio, non soltanto di Viareggio. Un pensiero particolare di ringraziamenti va all'orchestra, al coro, alle forze artistiche del Festival che anche quest'anno hanno dato una prova di straordinaria presenza e di straordinaria sensibilità. Un festival che lo notiamo anche dai numeri delle entrate sia degli incassi ma anche dai numeri delle presenze è in crescita. Questo ci conferma che la politica, le scelte artistiche che abbiamo fatto ci stanno premando sono giuste. È stato presentato Il viaggio di mio padre ovvero il libro del sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreucetti. La prima presentazione del libro di Patrizio Andreucetti dal titolo Il viaggio di mio padre si è svolta nel luogo dove è cominciata la sua storia personale e il suo paese partigliano. È proprio nel circolo del paese che è iniziato idealmente il cammino per presentare il suo libro ma anche la storia stessa del viaggio che Andreucetti noto ai più come sindaco di Borgo a Mozzano racconta in questo libro. È un libro in cui racconto i valori che mi ha trasmesso mio papà e lo faccio attraverso un viaggio immaginario sull'isola di Monte Cristo dove il viaggiatore incontra personaggi della storia con cui parla di democrazia di politica di arte di bellezza di ambiente di scuola di futuro e lo fa nell'ottica appunto di destare curiosità e di aprire la mente. È un libro che è anche rivolto alle nuove generazioni. Dopo una presentazione anche a Borgo a Mozzano lunedì scorso una tappa anche nel salotto culturale all'aperto di Piazza del Teatro nel centro storico di Barga. Tanti presenti tra cui il consigliere regionale PD Mario Puppa ed altri esponenti della vita politica locale della Valle del Serchio. Assieme alla sindaca Caterina Campani con Andreucetti un intervistatore d'eccezione il senatore Andrea Marcucci che ha toccato ed interrogato Andreucetti su molti dei temi di cui parla questo libro sotto forma di romanzo. Un romanzo di idee come riportato anche sulla copertina del libro che attraverso un viaggio immaginario sull'isola di Monte Cristo e l'incontro con tanti personaggi della storia ma anche locali affronta i temi della contemporaneità con lo sguardo però rivolto al futuro. Con questo servizio si chiude la prima parte del TG Giorni una breve pausa e poi le notizie sportive. e poi le notizie sportive. e poi le notizie sportive. Grazie a tutti.